Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio! Con il dono di una carità e pazienza eroica. Hai reso forte nel servizio degli infelici San Pietro Claver. Fattosi schiavo degli schiavi. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di cercare Gesù Cristo nel nostro prossimo. Amandolo coi fatti e nella verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pietro Claver. Prega per noi.